Musica Nelle miserie delle polemiche politiche di questi giorni una questione, quella della giustizia, sembra essere sostanzialmente legata ad una forma di contrattazione come se la questione giustizia fosse materia di contrattazione e non un fatto drammatico, reale nel quale si consumano molti eventi, per esempio quello di una domanda di giustizia che viene legittimamente dalla gente, dai cittadini, ma anche una questione di giustizia giusta molto spesso evasa nel nostro paese proprio perché i fatti ci documentano come sul fronte della capacità di applicazione di una giustizia giusta, il nostro paese ha conquistato la palma d'oro del peggior paese di civiltà democratica. Della questione giustizia fa parte per esempio un capitolo drammatico che è quello delle carceri che molto spesso viene dimenticato essere un capitolo nel quale si consumano uno dei massimi aspetti di barbarie, abbiamo una popolazione carceraria che sicuramente è almeno se non il doppio, almeno un terzo in più di quella che le strutture carcerarie sono in grado di sopportare, abbiamo una situazione devastante che riguarda il numero di detenuti che in carcerazione preventiva poi si trovano ad essere assolti in fase successiva, abbiamo una innumerevole serie di detenuti che finiscono con reati gravi per essere in qualche misura sottratti alla giusta punizione perché appunto la nostra azione si muove dentro un criterio in cui efficacia, efficienza ma anche giustizia giusta non sono i parametri in cui si consuma la situazione. In questi giorni sentiamo nell'ambito delle polemiche che riguardano il popolo della libertà, un altro fronte, quello di una trattativa tra i finiani e i berlusconiani che avrebbe per oggetto, per esempio, una, diciamo, d'out et des che avrebbe come oggetto appunto una spartizione per cui Fini divenuto il difensore dei giudici pretende di trattare sì il Lodo Alfano ma di sottrarre all'agenda politica la responsabilità civile dei magistrati dimenticando che la responsabilità civile dei magistrati è un terreno, se si vuole, complicato ma su quale la popolazione italiana ha già espresso una propria sacrosanta opinione con un referendum che non è una criminalizzazione nei confronti dei magistrati ma è anche una attestazione di responsabilità per dare a quella magistratura sana le condizioni di potere esercitare la propria funzione e per sottrarre l'utilizzo della magistratura come strumento per intervenire nell'agenda politica molto spesso in modo spropositato e qui ci esoneriamo da qualunque giudizio sugli ultimi avvenimenti che hanno accompagnato il caso Marcegaglia. Qual è allora quindi l'oggetto della questione di giustizia? È che a tutt'oggi manca una capacità di leggere la stessa con quei criteri di democrazia liberale che sono tipici di qualunque realtà di civiltà democratica. Questo credo sia l'elemento su quale dovrebbe confrontarsi anche la sinistra che a tutt'ora non è in grado di segnalarci quali sono gli aspetti della sua politica sulla giustizia. Molto spesso spazia tra una sorta di mugugno rispetto all'utilizzo di potere che la magistratura fa e una sorta di accondiscendenza, di subalternità, forse braccata da quel Antonio Di Pietro che diventa soggetto politico proprio perché ha esercitato come magistrato una funzione politica e quindi una funzione di occupazione, contribuendo in questo all'assassino della politica e al ruolo che la politica sempre più ha perso che dovrebbe essere quello della guida, dell'indirizzo, del progetto di vita individuale e collettivo delle persone. Quello di ricostruire un'agenda della questione giustizia in chiave liberale, democratica, capace di soddisfare la domanda di giustizia della gente, capace di restituire reale autonomia alla magistratura ma contemporaneamente di impedire che vi sia un utilizzo strumentale da parte di tutti gli attori magistrati compresi in chiave di potere della giustizia, è il compito che una sinistra liberale e democratica deve imporsi e noi come quadri radicali cercheremo nei prossimi mesi di creare le condizioni per cui si possa finalmente stimolare la sinistra a far sì che la questione giustizia non sia soltanto una questione di giustizialismo ma una questione di democrazia liberale.